Ciao a tutti e benvenuti su Minecraft Oggi siamo Il calendario dell'avvento Che non rispettiamo mai Mangiamo sempre cioccolatini Dall'1 al 24 La vera essenza Comunque come vedete c'è un pupazzo di neve Un pupazzo di terra Ed è terribile di terra Non so perchè l'abbiano fatto di terra Però dettagli noi appunto siamo al calendario dell'avvento Come vedete ci sono 24 mappe diverse Anzi minigame Ecco per essere più precisi E niente oggi quale faremo A noi ci interessava Oddio che salto che ho fatto Ci interessava particolarmente Una cosa in particolare Aris Rowling il numero 18 Andiamo allo scaffale numero 18 Wow Ma questi ti danno il 2 Questo è il 2 Aspetta il 5 cos'è mi porta nello spazio Ah no non funziona il 5 Wow Wow Bello Ok Ci sono le bande e andiamo a prendere lo scaffale numero Bando alle ciancette 18 No sono caduto Dai Sono caduto di nuovo Ok sei al 18 No non più No sono caduta dai Ok 12 di 18 Sembra che lo sto facendo a post Dai non ci credo Vai tipo sopra Oh ci sono Ice Rowling Prova a cliccare No Oh ok funziona Perfetto Allora come funziona Non lo so Dobbiamo fare 3 giri in un tempo limitato Controlla la barca come una barca normale In che senso Ah easy Iniziamo con easy Easy Ok C'è una barca sola però Dai Anzi salta te così No Vlad ma è lì la barca Eh ma io Eh vabbè vado Ok Vai 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 te Vado No ma come vuoi andare così da schifo Aspetta Ok Ok Wow Ah ma è tipo Mario Kart Esatto Ma siamo in due Si ma non so guidare Ma Vlad ci ha impedito Oddio Guarda Guarda il mio schermo Oddio No non voglio sguardare il tuo Oddio Ma cosa stai facendo Non fare 3 giri Non ce la faccio C'è il tempo Che sta scorrendo Lo so ma non riesco Non si guida bene Oddio Colpa della barca Esatto Esatto E sono ancora un giro E quanti 3 è vero Eh ma conta ancora un giro Cioè ragazzi Oh no questa roba mi da la nausea Guarda come si muove Eh ma mi sa quando passi lì eh Ma non l'ho dato ancora Sono ancora un aspetta Vado Perché fai schifo Si lo so Non riesco ad andare No basta con sta cosa Mi da la nausea No due vedi Ok ce la posso fare Vai Dovevo guidare io Che ero più bravo E la prossima guidi te Oh no Ma Non ci voglio credere Sei fatta Ah Oddio ha legato troppissimo Aspetta Tra l'altro le mura fatte di bedrock raga Fa troppa C'è ancora te o no Solo 90 secondi per fare un altro giro intero ragazzi Io non ci voglio credere Ma Ah no finito Ok 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 ci siamo Ok Va bene va bene Ok Che giusse Che giusse Si si guido io stavolta Eh ci mancherebbe Ok Hard Ai un minuto No shame Medium Va bene Salta Vado Diamo un po' le- Non è facile come sembra Non è facile come sembra Ta 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 Ah che figo Sono pistoni che si attivano Si 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 Chi va piano va sano e va lontano Quando colpisci i blocchi verdi diventi ubriaca Dai che stai sbattendo comunque a meno di me Stai andando dietro l'aria vai avanti Non è impossibile non prendere mai più in giro blanco Dai bravo hai ancora 80 secondi però devi muoverti Dai non mettermi ansia No sono di nuovo ubriaca Ancora lo farei ancora di più se continuo ad andare sui blocchi verdi la smetti sto diventando ubriaco anch'io vedo doppio Dai che ancora 50 scoccianti Sbattendo comunque meno di me dai che poi però vai stai andando piano è quello che mi dà fastidio Faccio prima ad andare a piedi Schifo visuale Io ce l'ho fatta Vlad ti posso al sedere Come sempre sono caduta No grazie Hard Oh ci sono due barche ok ciao Ciao Ma ce ne sono molte di più ora Come molte di più Sì ce ne sono No a media concentrato l'hai fatta apposta per Ci siamo incastrati Incidente No Constatazione amichevole ok no niente sono andato via ciao Ho solo 40 secondi È impossibile Come faccio Nooo Mi sono già persa No è impossibile No non capisco il tubo Raga sembriamo tipo a luna parte Ma c'è una barra Eh no ho schiantato Ho schiantato No dai è impossibile questo Ho sputtato sul monitor Grande tanto il mio quindi figuriamoci Dai un altro po' di nausea ecco No me non ce la faccio Come se non fossi già abbastanza ubriaco No ancora Nooo 13 secondi è impossibile Io sono ancora al secondo Sto finendo il secondo giro Come fai Ma come fai è impossibile Deve essere un schumacher Ah no ho vinto What? Ah erano solo due giri Ah ce l'ho fatta anch'io Grandissima Lari Grandissima Sii Ok siccome abbiamo fatto quello in tutti e tre I livelli di difficoltà Scegliete Ehm abbiamo ventiquattro mini giochi Uhuu Si so caduta Il building dell'uomo pupa Ok dai dai Andiamo andiamo questo Andiamo 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 Ok no cos'è sta roba No 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 non la voglio fare Passiamo ad alto Ok ok va bene va bene Qui ci dobbiamo farne Cosa ma no si scema Cosa dobbiamo fare Ehm è la neve Ehm è la neve La neve La neve Ah ho capito Ah ho capito anch'io Eh ma da dove le hai tirate fuori la neve No eh Ma come si facevano Ehm è la neve La neve, ho solo le zucca La neve, dopo la neve Ragazzi non c'è la neve neanche qua, mi fa arrabbiare Dimmi dove ti rifare la neve Ah, ma la neve è questa Ma sono sciogliere Però aspetta che io se lo metto tipo lì Esplodi Ma non so il perché Ma non conta, dobbiamo comunque Sono morto, bene, yes, sono tornato qua Aspetta, mi tipizzo Ok, ci sono, ci sono Bene, anch'io ci sono, guarda Ma perché deve esplodere Non lo capisco nemmeno io, vabbè No, cosa hai fatto, lo stavo costruendo Ah, scusa, allora non uscirà Mi allontano, ok, scusa No, 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 è possibilissimo Sì, ma muori, cioè Ok, no, no, no Io l'ho capito Dai, ok Ah, ma la terra si sta rispaldando o sbaglio? O sono io che vedo doppio? No, probabilmente Eh, no, ci mancavano 5, ma ho bene, e niente Sei nabbo, perché? Hai ricominciato, vai, 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 vai Ok, ok Ok, due Allora io prima procuro i materiali e poi li costruisco Che poi come faccio a farne 15 se non sopravvio? Ah, mi hai fatto esplode Ah, sono esplodeo di nuovo Ne abbiamo solo otto Ok, oddio, ce la sto facendo Ho trovato una cosa furba Una cosa figa, una cosa furba Essere a distanza di tre blocchi Ok, siamo a 9 L'aria, abbiamo tempo, vai via Questa è la mia posizione Ok, mi mettono la scuola Ok, no, sto subendo danni Dove sono le zucche? Ce ne mancano 5 Possiamo farcela? Ok, sono morto, non importa, 11 Ok, zucche! Dove sono le altre zucche? Ah, una, una, una Sono lì dietro, sono lì dietro Ok, 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 capito Sì, siamo a 13 Mancano, do, 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 do Lari, 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 costruisce Mettila, 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 mettila sopra Dove è l'ultima zucca? Mettila, sì! Non conta Victory! Batti la sua Troppo forti Mezzo cuoricino, raga, eh, dettagli Troppo forti Sì, io ho ancora e mezzo, ma va bene Io ho mezzo cuoricino Sono morto due volte, ma dettagli Io ho 50.000, però dettagli Siamo ragazzi che questo calendario dell'avvento vi sia piaciuto Faccici sapere se volete scoprire anche le altre Le altre Che fino al 24 ce n'è di tempo Sì, esatto Nel caso fate un like e se avete visto All'avvio ci fatto E noi ci vediamo in questo nuovo video Ciao!